C'era, che ne dici se proviamo la parte corale? Benissimo, quindi sarete tutte insieme con i nostri ballerini, ma credo che il palco sia un po' vuoto Io chiamerei dei rinforzi, rinforzi? Siamo a casa! Ma che cazzo ci fanno queste? Ma lasciatele a casa! Uh, peccatovi queste stronze, credevate di averse fatti fuori? Tutto bello e culturista! Tornare su questo palco è sempre un'emozione pazzesca! Ma è ancora viva! Bentornate ragazze! Devo dire che ci siete mancate! A noi no, eh! Il sentimento è reciproco! Eravamo tanto tranquille, invece no! A me sì! Dunque, ho visto degli abbracci! Quanti di questi abbracci sono veri? Nessuno! No, non è vero! Nessuno! Rivedere Divinity a me l'aveva fatto un bel effetto! Il mio abbraccio con Divinity era vero, gli altri sono finti! Bella! Circo stanze! Bella! Ah, c'è anche una no! Non toccarmi allora! Lucchisce invece, dicevi? I miei sono veri perché ne ho fatti tre su quattro, quindi quei tre sono veri! Quali sono i tre abbracci? Divinity, Ivana e Ava! Ti ricordi che è Ava? Sì, sì! Farida? L'ho abbracciato tutte! Tutte? Sì, noiosa! Perché lei è falsa, lei è falsissima! La verità è quella, che lei è falsa! È falsa Farida Cà! Hai usato una parola che stavo per usare io! No, devo dire che chi mi ha abbracciato è stato sincero! Qualcuno non mi ha salutato, ma questo adoro perché è contraccambiato! E' Norma! E' Norma! E' Norma, è sincera, è vera come sempre, quindi ha accettato di buon grado l'abbraccio di Farida. 50 sfumature di Bo, per me rimane Bo, quindi se mi abbraccia o non mi abbraccia, per me va bene lo stesso. E basta, direi che possiamo andare avanti! Esatto, e passerei ad Ava! Il nome di chi deve vincere la prima edizione di Drag Race Italia? Elettra Bionic! E Norma! Ho già vinto io, sono uscita da Rockstar! Divinity! Io ne ho due preferite! No, mi serve un nome! Farida! Farida! E adesso ragazze, dobbiamo tutte tornare a lavorare! Allora, facciamo! 7, 8... 8, 9... 1, 10!